Vi siete mai chiesti che cosa serva realmente per vincere le elezioni? E ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati qui sul canale. Oggi torniamo a parlare di comunicazione. Negli scorsi video abbiamo affrontato l'argomento di McDonald's che cosa ci fosse dietro alla vendita di un panino. Tutte le strategie di marketing e di vendita. E poi abbiamo anche analizzato le tecniche che sono usate nei supermercati per far sì che i nostri portafogli siano sempre più vuoti. Oggi andiamo ad analizzare l'aspetto della comunicazione nella politica. Infatti pur essendo in periodo di pandemia bene o male tutti stanno cercando di alzare il proprio consenso. Anzi vedo tantissime forze politiche in Italia che rimarcano magari il fatto di aver raggiunto qualche punto in percentuale di consensi in tutta Italia. Questo perché comunque il nostro paese è in un'eterna campagna elettorale. Che forse distoglie anche un po' la nostra attenzione dai veri problemi dei cittadini. Ma che cosa che fa veramente la differenza in tutto questo processo elettorale che tutto sommato è veramente infinito? Beh scordiamoci i dibattiti in televisione, le litigate, le litigate in Parlamento e gli scontri verbali. Quello che fa veramente la differenza per una strategia comunicativa a livello politico di successo è lo slogan. Per chi non lo sapesse lo slogan, la definizione di slogan è una parola o una frase che rimarca e fissa un preciso obiettivo. Per elaborare uno slogan di successo noi dobbiamo innanzitutto fissare dei concetti molto fondamentali. Il primo è che lo slogan deve essere aspirazionale, deve ispirare le persone ad essere migliori, a impegnarsi di più sul lavoro, a forse a sperare in un futuro migliore. Il secondo aspetto è che lo slogan deve dare un senso di positività, deve essere positivo, non deve essere un messaggio di guerra nei confronti di un altro stato, non deve essere un messaggio di negatività totale, anzi deve suscitare un sentimento di positività insieme all'aspirazione. Il terzo punto è il messaggio, deve essere molto chiaro e soprattutto facile da comprendere. Solo così uno slogan con queste tre caratteristiche, aspirazionale, positivo e il messaggio, può avere un'efficacia a dir poco devastante. Vi faccio alcuni esempi per farvi capire meglio. Pensiamo a Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, e quando lanciò il suo slogan, Yes, we can. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Se ci pensate, all'interno di questo slogan ci sono tutte e tre queste caratteristiche. È un messaggio aspirazionale, è un messaggio sicuramente positivo, perché non ti dice Yes, we can't, ma Yes, we can. E soprattutto il messaggio è molto chiaro, sì, ce la possiamo fare, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ma lo slogan, oltre ad avere queste tre caratteristiche base, deve avere un ambiente di vita. Infatti, se ci pensiamo, ogni politico, quando sta concorrendo per delle elezioni in qualsiasi parte del mondo, solitamente nel discorso d'esordio, sottolinea tutti gli aspetti negativi di quel momento. Penso banalmente a Donald Trump, quando ha annunciato il fatto che si sarebbe candidato alla presidenza degli Stati Uniti, ha creato un setup giusto, perfetto per il suo discorso, nel quale sottolineava come la scorsa amministrazione fosse stata inefficiente. Successivamente, dopo aver costruito questo ambiente, ha creato una situazione di conflitto tra le sue idee e le idee dell'amministrazione precedente, che era quella di Obama. A questo conflitto, però, ne deriva un'unica e sola soluzione, che in inglese traduciamo con resolution e che poi di fatto traduciamo con lo slogan. Se ci concentriamo anche poi sulla comunicazione di Trump, ci rendiamo conto di come in realtà lui non abbia inventato assolutamente niente, anzi, abbia fatto tantissimi copie in colla. Perché Make America Great Again in realtà è una frase di Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti d'America negli anni Ottanta. Se però guardiamo tutte le strategie di comunicazione e soprattutto chi vince e chi perde negli Stati Uniti d'America, ma anche in giro per il mondo, ci rendiamo conto che il populismo, la destra, i conservatori, in questo periodo è sotto gli occhi di tutti, stanno vincendo più degli altri. Questo perché loro si sono sempre concentrati sullo stillare proprio una serie di slogane che fossero semplici da capire, che potessero attirare l'attenzione delle persone e che fossero facili da ricordare. È chiaro che però, se guardiamo la tradizione americana, l'uso degli slogane è proprio anche del partito democratico. Infatti Barack Obama con Yes We Can ha un po' sfatato questo tabù. Però se guardiamo anche l'esempio italiano, la parte conservatrice del Parlamento, partiamo per esempio da Silvio Berlusconi, che è stato presidente del Consiglio e lui ha sempre puntato un sacco sul modello americano. Vi ricordate anche la canzoncina Meno male che Silvio c'è? Meno male che Silvio c'è! Beh, lui in realtà non si è inventato assolutamente niente perché uno dei primi che sperimentò l'uso delle canzoni in campagna elettorale fu JFK, il presidente Kennedy. Passando anche per Nixon, per Reagan e tutti hanno usato l'espediente della canzone. Ma tornando poi in realtà al discorso degli slogan, una cosa che fa tantissimo è, oltre allo slogan madre, che può essere Make America Great Again, è quello di sottoslogan che riassumono il programma politico. Aumenteremo i posti di lavoro, spenderete meno tasse, aumenteremo le pensioni. Se ci pensate, tutti questi concetti sono veramente molto semplici da capire e anche chi non ha voglia di leggersi l'intero programma elettorale ha la possibilità di leggerlo sui manifesti e di farsi una sua idea. È chiaro che non è una cosa tutto sommato positiva perché toglie un po' dall'informazione vera e propria di quel partito, di quell'idea politica. Guardando anche un attimo di nuovo all'esempio italiano, sì, vi ha accenato Silvio Berlusconi, i suoi slogan, la sua canzoncina, ma anche tutta la parte conservatrice oltre a Forza Italia ha sempre portato avanti una comunicazione molto chiara ed efficace. Se guardiamo dall'altra parte, se guardiamo a sinistra, vediamo come il PD nel 2008 lanciò la campagna Si può fare con Walter Vertroni. Beh, se ci pensate bene, si può fare, ricorda anche un po' Frankenstein Junior e non è proprio il massimo dal punto di vista comunicativo. Si può fare! Se guardiamo invece all'attuale governo e per esempio al nostro presidente del Consiglio, beh, lui cerca di esprimere dei concetti che riguardano la sanità pubblica, il fatto di mantenere le distanze, anche qui con certi slogan molto semplici e sicuramente molto efficaci. Se vuoi bene all'Italia devi evitare il rischio che il contagio si diffonda. E concludendo molto velocemente, possiamo dire che l'obiettivo dello slogan in realtà non è solamente quello di dare l'idea politica il programma, ma saremo forse anche un po' stupidi a pensare che tutto sommato non sia tutto voluto, anzi. Bene, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, abbiamo affrontato questo argomento degli slogan che è sicuramente molto interessante e chi si interessa di politica, di altri argomenti riguardanti la comunicazione, magari può prenderne spunto e farne qualche riflessione. Se volete altri video di questo tipo riguardanti la comunicazione, il marketing, lo sviluppo personale e poi spero anche di poter uscire di casa e fare anche dei video fuori riguardanti un po' anche la città in cui abito, mi raccomando, seguite il canale, attivate la campanella delle notifiche e soprattutto anche mettete un mi piace perché aiuta tantissimo l'algoritmo di YouTube. Noi ci vediamo tutti i giorni sulla nostra pagina Instagram dove da poco tra l'altro ci sono anche dei quiz, dei sondaggini molto divertenti sui loghi, sulla comunicazione quindi mi raccomando, seguitela. E invece con il prossimo video ci vediamo mercoledì. Un bacione a tutti, a presto, ciao ragazzi! È un grande spreco di talento. Preferisce i soldi al potere. In questa città è un errore che commettono in molti. I soldi sono come ville di lusso che iniziano a cadere a pezzi dopo pochi anni. Il potere è la solida costruzione in pietra che dura per secoli. Non riesco a rispettare chi non vede questa differenza.